Buongiorno e benvenuti ad una nuova edizione del podcast del giunco.net con le ultime notizie aggiornate della provincia di Grosseto. Ecco le news di oggi, mercoledì 4 agosto 2021. In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. In un giorno casi raddoppiati in Toscana e nuovi casi registrati nella nostra regione oggi sono 765 su 14.286 test, di cui 9.440 tamponi molecolari e 4.846 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 5,35%, anche questo raddoppiato rispetto a ieri, che corrisponde all'11,3% sulle prime diagnosi. Buone notizie invece per quanto riguarda la campagna vaccinale. Oltre 9 toscani su 10 over 60 hanno ricevuto la prima dose. L'85% ha già effettuato anche il richiamo, quindi è a una copertura da immunizzato. Ieri in provincia di Grosseto sono stati registrati 18 nuovi casi in totale. Ad oggi le persone positive in carico alla ASL in Maremma sono 383, mentre quelle in quarantena per contatto stretto sono 397. All'ospedale è situazione stabile per i ricoveri. Ci sono 14 persone nel reparto Covid e una in terapia intensiva. Sul fronte dei vaccini, Maremma è stata superata la quota di 112.000 persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 139.000 le prime dosi somministrate. Negli ultimi giorni in provincia di Grosseto si viaggia ad una media di 3.000 dosi somministrate al giorno. In totale in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 4.174.000 dosi. Cambiamo argomento. Dilettando, ieri sera, prima grande puntata dell'estate 2021 a Caldana per Dilettando, la trasmissione televisiva condotta da Carlo Sestini è ormai diventata sinonimo di divertimento e spettacolo in Maremma. Da oggi riparte anche il contest del giunco.net, legato proprio a Dilettando e dedicato alle esibizioni migliori che avranno poi diritto alla finale. Rimaniamo in tema, Maremma in diretta stasera alle 19 e torno all'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini in diretta sulla pagina facebook di giunco.net, una nuova puntata dedicata all'ONAV, l'organizzazione nazionale assaggiatori di vino. Per questa edizione del podcast è tutto, seguite le notizie sul giunco.net, potete contattare la nostra redazione, l'indirizzo mail, la redazione chiocciola è giunco.net o al canale whatsapp 334-5212-000 per il giunco.net da Nerea.